Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo qui nel canale Oggi vi portiamo la lista di Con Eccoci qua, il best Allora, c'è anche un cane che abbaia, ma vabbè, purtroppo non possiamo Come dicono i cinesi, kankabai a poco cotto Allora, standard, tre arua, monosharama e monorachea Come mai questa scelta? Perché, allora, giocavo rachea doppio, ma è un brick di merda, quindi gioco solo tre arua e monorachea Ok, poi? Poi vabbè, uno sharvara e due shiama per la combo nuova per fare... Per la combo nordic Sì Perfetto Poi vabbè, uno di questo Poi tre frigginone dell'abominio Brina, dio porco Tre frigginone dell'abominio Do stand Puoi girarle solo Ah, ok Grazie Tre fuga Tre figa Belle Poi due reborn e monocontina Eccoci qua Mi sembra lo forco Hai mai pensato di giocare la roba Brave? No E perché giochi cinque trappole? Perché c'è la continua che fa la stessa cosa, però si è scoperta Ah, ok, ok Poi, vabbè, pacchetto tour Porco Dio, Brina Pacchetto con tratti Poi tre traspetti e due titoli per consistenza E poi hash per i droghi Mi ha distratto un orecchio Porco Dio Poi dietro Due yama Come mai non giochi le trasto? Ah, è un neagogo Molto semplice Ma il regolo of the sword? Vabbè, due yama Ok Due rabbia Ok Monoling 3 Dovrei aumentare il ratio Ma non ho voglia di farlo adesso Ok Monoling 4 Trovi bene con l'in4 Ho visto che alcuni non lo giocavano Però tipo stracatta mi piace Lo uso come target prosto Però quando risolve è molto forte Non lo calo quasi mai Ah vabbè, ok Poi per Questa qua è forte Regolare Poi un SP, un unicorno Cazzo Per il turno dell'oppo Goddus per cui i mazzi di merda che carano un rival Ok Questo è per cui i mazzi di merda che carano un rival E da voi Marcus Patel Poi due Caesar Due Caesar monomachinex Poi uno Zeus e un Tycoon Ok Vuoi tu qualcosa dire A tutti gli player di Unchained? Cambiate mazzo Ok Perfetto Grazie ci vediamo al prossimo video La side Vabbè 3 nib e 3 bell Eh beh Ci sta cattiforti Bell soprattutto E mi apro E poi antispel per il mazzi del cazzo Regolare 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 Comunque Dovete ringraziare che noi siamo ancora qua Perché sabato scorso abbiamo rischiato un incidente Comunque Non c'è tra nulla Comunque niente Grazie Con Paul Walker Grazie ragazzi per aver visto questo video Da me Paul Walker Spad Anima Ethereum Predaplant E Gianni Celeste Tutto Ci vediamo al prossimo video Ciao